Non sbirciare Tu stai sbirciando Ah tu intonati come la tua maglia Certo, tutta gialla Ciao ragazze, eccoci qua Nuovo video, challenge, nuova challenge Ora che vi piacciono tanto Post-it challenge E abbiamo fatto già sushi challenge Blend food, quella light ma strana Della roba da mangiare Poi abbiamo fatto anche le caramelle Il caramelle di questo challenge Vi lasciamo tutti i link nei box informazione Vi invitiamo ad iscrivervi A questo canale se ancora non siete iscritti Adesso dobbiamo indovinare praticamente I nomi spiaccicati in fronte Quindi iniziamo subito Allora, chiudi gli occhi Rimani a te Attacca, questo è bellissimo Ok, e adesso Aspetta che cadono, aspetta Ecco qua Abbiamo eliminato tutti gli specchi Ho chiuso anche la tenda Perché si vedeva nel riflesso Quindi non possiamo sapere Adesso facciamo le domande E indoviniamo Una e l'altra Una domanda e una domanda Una domanda e una domanda Sono maschio? No Sono femmina? Si Ho 40 anni? No Di meno? Penso proprio di si Sono un'attrice Eh Insomma Un po' Significa un po' In un certo senso Ah Quindi Io sono bella La scema Bellissima Io come sono? Sono bella? In un certo senso Magari un mostro No, si Sei bella Sono sexy Sì Sì, tantissimo Ma poi c'è questa persona Infatti no Ho detto io Aspetta E tu hai detto che Sono una Sono una mezz'attrice Non sono bella No, sei bella Si Sono bella A chi piace A chi no Sono bionda? Sì Sono bionda Io sono bionda? No Sono anche una presentatrice No Certo No No Potrebbe anche essere Ma no Più no che sì E io Sono alta No Sono bassa E hai fatto una domanda alla volta Gioco barà Ehm Quindi non so Non si capisce Questa non è un'attrice Non ha nulla tenente Non la facendo Ehm Ma è un personaggio di fantasia No, no È reale Ok Ma io c'ho il culone No Ah 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 Vabbè Sono alice del paese delle meraviglie Ah no hai detto no Non proprio Certo Un paese delle meraviglie c'è Però non è quello là È un altro paese delle meraviglie Che so la nonna? No 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 Proprio là Proprio il contrario hai detto No assolutamente no Ah E invece io Ho capito E no prima io Tu Ma io a me mi va sempre il rossetto sui denti Si Allora sono Densia Mara Non c'è dubbio Però è barato che c'è il culone Non è vero C'è il culo un po' pronunciato Non si sbara sulle domande Nooo Ma io che so Baffi Nooo 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 E tu dai continua vai Quindi sei una cantante Nooo Nooo Ma che fa? Fa niente Insomma Non sa quello che fa In un certo senso A parte del mondo di youtube Nooo E non fa niente questo Non capisco che fa La scrittrice No Assolutamente proprio no E chi è? Madonna mia Oddio Fai qualche domanda sul lavoro E sull'età Allora E' vecchia C'ha più di 40 anni No Quindi è giovane Ma diciamo che non si può dire più l'età E' morta Marilyn Monroe E' un personaggio che Molto Ti condice molto Ma chi è? Che sceglietà sicuramente Ti condice molto E io ci sto pure pensando Non fa l'attrice Non fa la cantante No Un po' un po' un attrice Ho detto si E' del parisi Mmm Quasi La per la cagà Quasi Un po' più Vecchia No Più giovane No un po' più Non fa parte del mondo di youtube Ma no sono stato troppo brava No non riesce a dovidare Sono stato un bravito Perché non mi dà le disposte giuste Non fa l'aradato Ma che hai chiesto? Ma che' è un'attrice porno? Noo Si Cicciolina Ma in Cicciolina E' un Cicciolina E' un Cicciolina 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 E' un Cicciolina Vabbè ti ha chiusato E' un Cicciolina E' un Cicciolina Cicciolina Scusa che hai detto no Ho detto mezzo Ho detto mezzo Eh ma è un Cicciolina Vabbè Non si nasce il Cicciolina Vabbè hai sbagliato Ok, ci siamo? Secondo post-it challenge Indoviniamo, allora Io sono uomo? No, io sono donna? No, ho meno di 30 anni Sì Io sono un cane No E io sono un'attrice? Sì Nel mondo di Youtube Un'attrice nel mondo di Youtube Un'attrice però di te Un'attrice Non so di cosa Poi io devo dire Sono un personaggio di fantasia allora No, no, no Reale proprio E non sono niente uomo né donna No Io sono morta Questo non lo so Però Pensavo di no però dai Che cavolo, metti un personaggio Ma sono un personaggio famoso Sì, sì, sei famoso Sono famosa Sì, stava facendo già due domande Ma devo fare io due domande Questa barra è vincente Capito? Sono un animale? Sì Ok Però non un cane Giusto? Ma io devo vincere Sono un'attrice Sono un'attrice? Già mai detto prima Ah sì Ambra No Io allora Un'attrice italiana? Aspetta Non sono però un animale reale che esiste Sì, sì, esiste Però non un cane Bianchino sono No, no, no E sono un'attrice italiana? No Italiana no Io sono Ma io non le conosco proprio l'attrice straniera Che domanda di un animale? Io sono l'attrice di Buffy No, non sei l'attrice di Buffy È un personaggio che sai il nome che conosci L'Italia Ah, Pamela Anderson? No Katia Jessica Parker Katia Jessica Parker? E chi è? Però Io non ho detto Che cosa è Jessica Parker? No, no, no No, no Allora Per poco però Eh Eh, per poco È una cosa C'è andata sempre vicino E chi è? Allora Io Allora Io sono un animale Sono un leopardo Una tigre Leopardo Una tigre Sì 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 Non è leopardo Non sta qui Non è il animale 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 Visto che a lei piacciono Tutti i vestiti Leopardo Non ci te lo vado Vabbè Siamo uno pari Ma fammi indovino a me Vai Allora Ti do un indizio Un'attrice Però È sia un'attrice Che un personaggio di fantasia Madonna Che tu conosci comunque Mary Poppins No Però Una cosa per bambini Madonna Che tu conosci Ce ne rentola No Fammi una tua madre Ti ho detto Che ha meno di 40 anni Quindi è giovane La bella è la bestia No La bella è la bestia 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 La canne è la bestia Aio Aiutate La bella è la bestia Bella è Sebastieno E' una persona femmina Bella è Sebastieno Un cane è un bambino E' una ragazza Una ragazza a te piaceva molto quella del mago di Oz no quasi però ci somiglia fammi una domanda devi capire è un cartone ci hanno fatto sia il film che il cartone animato a te piaceva quando eri piccola però non è il mago di Oz ah no quello che ti piaceva i puffi ma che c'è anche i puffi a me quelli che ti piacevano però non è vero pure questo ti piace ci somigli pure il petano è qua è tattaruga ninja ma è femmina ma poi li so tre maschile ragazza anche una ragazzina ma dove ti dici di te è una ragazzina semplice e carina è una che ti piaceva a te a me lo piaceva il mago di Oz e poi va caricia nel paese delle meraviglie no è una a cui somigli somiglio a chi è? pollian anna quasi ma che cavolo è che sto scemo no non mi arrendo ti do un ultimo indizio facilissimo un'acconciatura particolare perciò tutti quanti se la ricordano per questa acconciatura Anna ha i capelli rossi quasi come si chiama? ma chi è? ma io non la conosco proprio a qui tutti la conoscono tutti la conosco tutti la conosco pollian quasi ah quella la haidi no neanche chi è? che c'ha le trecce pollian no con le trecce così iiii ma dovevo mettere le trecce così per piegare te l'u brava l'ho detto viva ma te l'hai viva l'ho detto mi hai sentito lui hai chiuso gli occhi? sii ma dove c'è? non sia che pesate non è bella? oh ma questa è decisiva si è stato bellissimo ma questa è decisiva dobbiamo chi vince questa vince ragazze preparatevi mi stai facendo un ammazziato preparatevi posso aprire? si a decidere la penitenza per chi perde speriamo che indovino io così si fa la penitenza pensate a qualcosa di molto molto cattivo che dovrà fare nel prossimo video indoviniamo sono maschio? no sono femmina? una alla volta io sono femmina? si sempre femmina io sono femmina? si ok ho meno di 40 anni? non credo sono una ballerina? ma ti dobbiamo fare? no allora io sono bionda? no sono mora quindi ho 20 anni? no magari magari ma già hai capito questa cosa? già ho capito dolce ragazze magari hai capito dolce non vare non fredda è tu subito magari ma mi è scavatissima che è? che c'è? ho vinto e tu devi fare la penitenza solo tre te la penitenza per Carlina cantissime comunque non mi arredo devi dirlo devi dominare? sono un'attrice? si sono morta? no esiste ancora? eh per molti purtroppo si a Baradurso eh ma Baradurso è l'attrice papà non è fatta divina attrice ma hai ragione la dottoressa Joe va bene un bacio a Baradurso ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto mettete un bel pollice in su mettete mi piace se volete anche la pizza challenge ho deciso ho deciso ho deciso ho deciso avete chiesto intanto e pure la pizza challenge però noi siamo un po' restie se ci mettete tanti pollici in su lo facciamo in su? pollici in su? perché volevo dire in su? in su è in su è diventata cinese un carattere metteteci tanti pollici in su se vi è piaciuto questo video se volete il video della pizza challenge me lo facciamo mettete giù nei commenti la penitenza che deve fare carità dulce speravo si fosse la dimenticata no la devi fare va bene attive ditemi la penitenza inizieremo il prossimo video facendo questa benedetta penitenza lo farò qualsiasi cosa come abbiamo fatto che io ho indossato i pantaloni tigrali poi ci siamo scambiati l'è diventata l'è diventata l'è maria l'è maria l'è maria l'è maria io farò la penitenza tutto quello che voi dite e legge il commento più peniciato sarà fatto vi faremo pizza challenge se volete e fateci sapere anche altri sfidi altri challenge nei commenti vi mandiamo un bacio grandissimo ciao ciao